Cari naviganti, bentornati! Sessantunesima puntata delle colonne d'Ercole. Allora, tempo fa abbiamo iniziato una serie dedicata a John Williams e non si poteva proprio non iniziare un'altra serie che riguardasse il più grande compositore di musica da fini che abbiamo avuto in Italia e probabilmente anche nel mondo, cioè Ennio Morricone. Ma in quale maniera parlare di Ennio Morricone, autore del quale è stato già detto tutto, del quale abbiamo ascoltato tutto, osannato, ascoltato da milioni e milioni di ascoltatori in tutto il mondo ed è stato uno di quei compositori che ha fatto quello che fondamentalmente è il sogno di tutti noi che facciamo questo lavoro, cioè uscire dall'autorietà nel nostro ambiente in cui siamo più o meno noti e più o meno apprezzati e più o meno conosciuti per raggiungere una notorietà veramente mainstream perché non credo che ci sia una persona che, se fermate per strada, non conosca chi è stato Ennio Morricone. E quindi nel cercare il taglio giusto da dare a questa nuova serie che iniziamo oggi mi sono un po' scervellato e ho detto cosa si può fare? Perché gli anni folli di Ennio Morricone? Quali sono gli anni folli di Ennio Morricone? Gli anni folli, nella mia personalissima valutazione, sono quelli che vanno dal 1965 al 1972 perché pensate che in questi otto anni Ennio Morricone ha composto 145 colonne sonore 145 colonne sonore è un numero mostruoso, non umano vuol dire praticamente 18 colonne sonore all'anno vuol dire praticamente una colonna sonora ogni tre settimane di media quindi non vuol dire che lui lavorasse tre settimane una colonna sonora poi altre tre settimane su un'altra altre tre su un'altra il grosso problema che abbiamo noi quando lavoriamo a più di una colonna sonora insieme è appunto mettere insieme il lavoro per una colonna sonora magari per una commedia e al contempo mettere insieme il lavoro per una colonna sonora magari thriller per cui incastrare le registrazioni lo scrivere, l'orchestrare, il missare, il montare sono tantissimi problemi quindi non è che Ennio Morricone dedicava tre settimane a una colonna sonora e poi passava un'altra e poi passava un'altra e poi passava un'altra era un continuo incrociarsi di questi lavori che ovviamente si accavallavano, si pestavano i piedi come è assolutamente normale perché inizio dal 1965 non da quando ha veramente iniziato Ennio Morricone a scrivere colonna sonora cioè dal 1961 con il federale di Luciano Salce perché gli do come gli abbuoni i primi quattro anni in qualche maniera nel senso che diciamo che considero i primi quattro anni anni nei quali Ennio Morricone comunque ha composto 20 colonne sonore circa quindi neanche pochissime diciamo che gli do come gli anni di inizio lavoro gli anni della gavetta per certi versi invece considero come dire la sua carriera è veramente esplosa dal 1965 tenete presente un'altra cosa in questi otto anni dal 65 al 72 oltre alle 145 colonne sonore cinematografiche che ha fatto Ennio Morricone ci sono tutta una serie di altri lavori che sono quelli teatrali quelli televisivi gli arrangiamenti le canzoni il lavoro per la musica leggera e ovviamente anche il continuare a scrivere la sua musica la musica assoluta la musica con destinazione concertistica cosa che Ennio Morricone non ha mai smesso nel corso della sua lunghissima e fortunatissima carriera un'enorme quantità di generi si passava dalla commedia ai documentari ai thriller ai polizieschi all'western ovviamente che è un genere di cui approfondiremo la genesi e la crescita allora cominciamo a vedere il primo di questi anni folli di Ennio Morricone il 1965 Morricone ha 37 anni è già comunque un compositore affermato oltre che un noto arrangiatore nell'ambito della musica pop ha già scritto una ventina di colonne sonore tra cui per un pugno di dollari così una cosetta tanto per dire allora il primo film di cui parliamo è Non son degno di te appunto nel 1965 con la regia di Ettore Maria Fizzarotti è uno di quei film che mi ha chiamato musicarello in cui si prendeva il successo commerciale di una canzone in questo caso ovviamente Non son degno di te cantata Gianni Morandi che unita ad altre canzoni facevano fondamentalmente di questi film appunto una sorta di musical in cui veniva appunto alternati un racconto generalmente insomma senza troppe senza troppe pretese con una trama che si vive appunto da pretesto per far ascoltare le canzoni qui succede anche una cosa un po' particolare che le canzoni non sono scritte da Ennio Morricone che quindi scrive semplicemente la scora la musica la musica di commento e tenete presente che questa è una cosa che succederà ben poche altre volte perché poi arriverà a un certo punto la criteria di Ennio Morricone in cui lui dirà che qualunque nota ci fosse stata sul film che fosse stata della score o una canzone o qualunque cosa una musica diegetica qualunque altra cosa dovrà comunque essere fatta da lui andiamo avanti sempre nel 1965 Una pistola per Ringo di Duccio Tessari un inizio di quegli spaghetti western che già aveva iniziato Sergio Leone l'anno prima e che poi diventeranno un successo un successo mondiale e che ridaranno vita a un genere come quello western che fondamentalmente si riteneva morto e sepolto soprattutto nell'interesse del pubblico attenzione che questo film Una pistola per Ringo non c'entra niente con un altro film che aveva però lo stesso regista lo stesso attore lo stesso compositore e lo stesso protagonista cioè appunto Ringo quindi attenzione che Una pistola per Ringo la storia meglio non c'entra niente con Il ritorno di Ringo che vedremo più avanti che è stato comunque un grandissimo successo e che generalmente mi è ritenuto erroneamente un sequel appunto di Una pistola per Ringo però insomma questa fu un'operazione principalmente commerciale fatta per per ottimizzare al meglio le riprese che spesso venivano fatte in tempi molto ristretti e poi gli stessi scenari molte volte vengono utilizzati anche in più film in più tenete presente un'altra cosa che il nome di Ringo in ambito western diventa veramente famosissimo in questo genere tanto è vero che ci sono tantissime altre produzioni evidentemente non c'era un marchio depositato o tutelato in alcuna maniera che faranno tantissimi film con protagonista un pistolero che si chiama Ringo ma non è mai lo stesso naturalmente andiamo avanti Amanti d'oltretomba di Mario Cagliano che però uscirà in molti stati come Alan Grunwald secondo quella moda del tempo per cui molti registi molti attori e vedremo anche alcuni compositori uscivano non con il nome italiano ma con un nome con un pseudonimo ovviamente con un nome generalmente inglese o anglosassone perché come dire probabilmente era più spendibile nel mercato internazionale pensate che questo film che di per sé insomma non è stato nulla di memorabile è stata una piccola produzione però ai tempi incassò 154 milioni stiamo parlando del 1965 che insomma era una cifra decisamente apprezzabile non certo un successo mondiale però un successo decisamente apprezzabile considerando che era costato veramente una manciata di soldi I pugni in tasca niente po' di meno che l'esordio alla regia su un lungometraggio quantomeno di Marco Bellocchio grande successo di critica ottimo film che addirittura insomma ancora dopo tanti anni mi è ricordato tra i migliori film della filmografia italiana Nastro Argento dei tempi e nuova colonna sonora di Ennio Morricone altissima pressione regia di Enzo Trapani ancora Gianni Morandi ancora un film musicarello che segue praticamente la storia di Non son degno di te poi Agente 077 Missione Bloody Mary regia di Sergio Grieco allora questo è un caso un po' particolare perché in realtà di questo film Morricone non scrive la colonna sonora ma fa semplicemente da arrangiatore per per alcune canzoni e il classico film ce ne saranno tantissimi negli anni 60 e 70 fondamentalmente che vogliono scimmiottare o comunque ricordare ovviamente James Bond con 007 che però per questioni di diritti chiameranno 077 017 777 insomma e quindi insomma moltissimi altri riferimenti come appunto che richiamano James Bond senza ovviamente poterlo mai nominare chiaramente Slalom con la regia di Luciano Salce Luciano Salce lo ricordiamo è stato quello che ha fatto iniziare Ennio Morricone a scrivere le colonne sonore nel 1961 quindi continua la loro collaborazione musiche di Ennio Morricone dirette da Bruno Nicolai Bruno Nicolai dirigerà indicativamente le prime 100 colonne sonore di Ennio Morricone indicativamente poi Morricone sceglierà sempre di dirigersene in prima persona Thrilling un film episodico la regia di Ettore Scolo Gianluigi Polidoro e Carlo Lizzani musiche di Ennio Morricone ancora dirette da Bruno Nicolai Idoli contro luce regia di Enzo Battaglia non un film memorabile ma altra con la nostra nora di Ennio Morricone e il greco ancora Luciano Salce ancora 1965 quindi erano anni in cui Luciano Salce aveva fatto due film cosa insolita anzi al limite dell'impossibile oggi ma assolutamente comune in quei tempi in cui si produceva una quantità di film enorme e quindi un regista faceva due a volte anche tre film in un solo anno e qui arriviamo al ritorno di Ringo ancora regia di Duccio Tessari ancora Giuliano Gemma come protagonista ancora Ennio Morricone come compositore fondamentalmente questo film pensate che è stato girato prima di una pistola per Ringo e doveva avere degli altri nomi insomma nessun collegamento con la storia precedente ma siccome una pistola per Ringo era andato così bene questo film anche se è stato girato prima viene nominato una pistola per Ringo per come dire seguire le scie del successo del film precedente Menage all'italiana regia di Franco Indovina anche questo non un film probabilmente che resterà negli annali ma un'altra con la sua nuova filmata Ennio Morricone Se non avessi più te regia ancora di Ettore Maria Fizzarotti ancora Gianni Morandi terzo film musicale di Gianni Morandi nel 1965 questa cosa non vi deve stupire considerate che erano anni in cui in Italia si producevano quasi 400 film all'anno capite che 400 film all'anno vuol dire una media di un film anzi più di un film al giorno erano anni in cui tanto per darvi un altro dato Franco e Ciccio facevano 10-11 film in un anno praticamente un film al mese una cosa oggi impensabile bene arriviamo al tredicesimo e ultimo film di Ennio Morricone del 1965 per qualche dollaro in più che film veramente leggendario che è seguito naturalmente per un pugno di dollari dell'anno precedente allora ascoltiamo intanto il tema famosissimo di questo film di cui poi parliamo un attimo più diffusamente e signori io di fronte a un tema del genere mi alzo in piedi mi alzo in piedi e se avessi un cappello me lo toglierei perché questo è uno di quei temi veramente più memorabili che resteranno nella storia della musica del film e non dimentichiamo che nel rilancio del film western nella fase cosiddetta degli spaghetti western in cui praticamente il western veniva considerato come un genere di film morto che al pubblico non interessava più ma grazie a questa nuova produzione che erano basate almeno all'inizio su dei budget molto limitati e sulle colonne sonore particolarmente catchy si potrebbe dire oggi come questa qua il genere ebbe un incredibile un incredibile momento di di forza di vigore che in realtà è un momento che durerà poi diversi anni in realtà e la musica che spesso veniva utilizzata non magari utilizzando dei grandi orchestri ma utilizzando delle novità ad esempio l'utilizzo dell'ocarina l'utilizzo del flauto vedremo meglio nel buono il brutto il cattivo l'utilizzo di alcune vocalità che venivano mischiate con gli strumenti l'utilizzo del fischio per esempio e molte altre soluzioni musicali che oggi noi diamo per scontate anzi che immediatamente abbiniamo al western cioè quando sentiamo un certo tipo di fischio un certo tipo di tema un certo tipo magari di chitarra che fa che ricorda vagamente ma neanche troppo vagamente in realtà gli zoccoli dei cavalli e così via tutti questi sono stati degli stilemi che sono stati imposti in quegli anni e che oggi noi diamo per assodato e non so quale compositore del mondo anche il più grande sognerebbe di fare la musica per un film western senza ricorrere volente o non lente a qualcuno di questi stilemi bene naviganti finisce qui la prima puntata degli anni folli di Ennio Morricone vi aspetto per la prossima parleremo dell'anno successivo cioè il 1966 non mancate di Ennio Morricone